L'anno scorso c'è stata l'edizione soltuosa dell'estate da re, quest'anno è un'altra l'edizione soltuosa, ma tengo a precisare il fatto che non capita, come capita tante volte, che si fa l'evento, poi ci si dimentica e non si replica, il fatto che si inizia una continuità è un segno di appoggio che la Regione dà alla rilascia della Regia, molto importante che noi ci siamo conto, per cui ringrazio il Presidente e tutti i suoi collaboratori. Però oggi è anche un giorno bello per noi, perché proprio in sera, 31 maggio alle ore 20, abbiamo chiuso i dati di maggio con un più 40% dei visitatori, più un 50% degli incassi, e stiamo parlando di un più 40% su un anno 2016, perché abbiamo fatto più 38%. Quindi si conferma questa rinascita e noi la dobbiamo anche all'appoggio della Regione.